ciao i gelini belli come state? come state? spero tutto bene oggi sfogliamo una rivista insieme è stato richiesto voi come state? spero tutto bene grazie sempre per il supporto grazie 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 allora la rivista in questione è questa grazia e abbiamo anche questa bella penna con il gattino con il gattino allora questa rivista grazie grazie moda sorprese d'estate in questa rivista ho trovato questo famosissimo olio NUX olio prodigioso per capelli viso e corpo è olio secco profumato molto profumato buonissimo 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 guardate non ci vedo perché sono andata a farmi la visita anche degli occhiali ieri sera e ho perso ancora vista sto aspettando gli occhiali nuovi allora Clara vivevo in un garage ora canto il mio amore per la musica Kylie Minogue sono una sopravvissuta Kylie Minogue sono una sopravvissuta Will Smith farei tutto per il bene di chi amo papà Francesco e il mondo arcobaleno perché non si può dire quello che c'è scritto bene iniziamo iniziamo qui troviamo questa bella attrice che ha fatto il diavolo Veste Prada con la collana di pulgari bellissima io non la porterei non mi piacciono queste cose vistose però è molto bella da vedere e lei la porta benissimo qui abbiamo un vestitino Chanel adesso ma non capisco perché non potrei andarmene a abitare in un'isola deserta con tutti i pesciolini con tutti i paguri che camminano nella sabbia con le panni i cocchi perché qui non si può più vivere con questi vicini questa gente non fanno un minuto di silenzio come a scuola che ti dicevano un minuto di silenzio fate un attimo un minuto di silenzio sarà perché io non mi sentono perché la signora di sopra mi dice sempre è come non ci fosse non ti vediamo mai perché il primo io non sono un tipo che va a chiacchierare per le case secondo io non faccio casino perché ci sono anche orari da rispettare ok vivo normalmente senza disturbare la gente non capisco perché uno che deve aprire il balcone lo deve spaccare chiuso parentesi allora torniamo in ASMR questo è un bel completo Chanel di un bel rosso molto bello qui abbiamo Moschino qui abbiamo Moschino che profumo Toei 2 per a me piace Moschino mi piace qui abbiamo una sirena qui abbiamo un bello orologio swatch qui c'è un mega swatch da donna e qui un mega swatch da uomo in bio ceramica un bello bello tutti e due a me piace anche questo colore azzurro qui abbiamo gas completo da donna e da uomo qui abbiamo qui abbiamo Giovanni Raspini con una bellissima Matilde Gioli che ha fatto toc nelle tue mani che adoro qui abbiamo qui abbiamo un completo mascolino da donna però racchebono non lo so non ho mai sentito questa marca qui abbiamo Van Cleef e Harbles bellissimi questi anelli io li amo gli anelli qui guardate 90 sussurri nel bosco guardate che bello proprio foto a casa nostra 90 sussurri nel bosco abito in Tecnotuches con Rusci e un po' i armani qui abbiamo la dolce cappana e questa è la Clara quella che ha detto che viveva in un garage e poi si è scoperta cantante che bello 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 nel frattempo la signora di sopra sta correndo dietro il suo marito per la camera Emporio Armani occhieri da sole Pandora la nuova la nuova gamma qui troviamo un bellissimo anello con i pendenti che a me piacciono gli anelli con i pendenti anche le fedine così e anche il bracciale molto bello gli orecchini un po' meno troviamo l'argento e l'oro tagliatore questo è un simile di Chanel però Miri a te questa bella borsetta mi piace il colore non troppo però la forma qua qui troviamo Kiko un limiter possibile Kiko contenuto a 16 ore 30 colori irresistibili per labbra senza limiti il preferito di Emma Roberts io ce l'ho ma non questa tonalità ce l'ho a new mi piace il mio questo non mi piace questi colori aranciati non mi piacciono però a lei sta bene bello questo tipo citana bello 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 ho anche le mani gonfi stamattina perché i dolori mi fanno impazzire ho il dito scatto guardate il dito che non si alza qui noi credenti gay delusi dalla chiesa qui si potrebbe aprire una encecolopedia ma io mi tengo le mie e voi tenetevi le vostre idee perché ognuno abbiamo le nostre giustamente niente contro E qui abbiamo Cismondi bellissima questa guardate che collana qui c'è un cuore blu con tutti questi cascate di svaldi cristallini guardate l'anello che bello 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 i ricami della libertà che bella foto che bel castello tipo vampiresco mi piace ma dispari questa è un'essenza di bellezza è la rosa bianca è il tuo segreto di antietà bello con questo caldo è tanto se mi metto la crema giusta qui abbiamo un bellissimo braccialetto con il jaguar bello bello aspettate che ho una telefonata mi girl allora qui troviamo la bioniche mascara assoluto per il tuo sguardo l'assoluto allora io ho sentito parlare di questo mascara e però non non sono molto fiere di questo mascara una sola passata una sola passata volume effetto ventaglio lunghezza e curvatura oltre ogni attesa tollerabilità assoluta testata sugli occhi più sensibili formula con attivi con attivi per ciglia più forti un'alleanza della vera bellezza un'alleanza nato per essere il numero uno che è Nick Skinner le trappole della prima volta la notte degli esami qui abbiamo un vota look allora troviamo delle vip vestite in modo serale qui abbiamo qui 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 vediamo se ne riesco a farvi vedere più da vicino allora Sofia Carson vestita di piume Adria Ariona è vestita retro mi piace questo questo no qui abbiamo Carolina che è questa in vinile no per carità Jennifer Lopez la vediamo qui ed è vestita in rouge ha tutte le rouge e Zoe Saldana sensuale benedetta porcaroli raffinata non mi piace desiratli questa crochet Dakota Fanny essenziale creta creta bella di fiori sono fiori veri dovevo passare adesso la moto perché stavo registrando qui abbiamo il mio successo sono andato in un garage questa è la ragazza che viveva in un garage e poi si è messa a cantare allora questa è la start della copertina l'esordio da modella con grazia l'amore per la musica il ruolo di attrice nella serie mare fuori e la consagrazione arrivata a Sanremo la cantautrice Clara Soccini racconta la sua lunga strada che l'ha portata alla ribalta passando per un'infanzia senza il padre che è un periodo che sembrava senza riuscita ora si prepara un'estate da protagonista con una nuova canzone e la sensazione di essere diventata finalmente finalmente grande qui fa la modella indossandolo un giubbino in pelle con un pantaloncini short e un reggiseno giacca corta stile motociclista su top e short in spelle camoncio e ricami piercing tutto pingu pagina accanto abito in culturale fantasietro qui troviamo sempre lei perfetto perfetto shampoo riparatore condizionata disciplinante nutrition antiox mask interessante questo qui troviamo valeverde soft system le ciabatte della valeverde con plantare e fibre prelettate qui troviamo una che ha il minogue ogni giorno cavale con una nuova onda 80 milioni di dischi venduti i premi conquistati con il brano Badam Badam l'avventura come imprenditrice nel vino ma anche la sfida vinta contro il cancro la pop star che il minogue si racconta grazia e si definisce una sopravvissuta a cui gli altri passi della vita hanno insegnato a puntare sempre il nuovo traguardo qui abbiamo i prodotti della Bioniche per l'estate insieme per un futuro migliore della tua pelle del nostro pianeta e qui abbiamo l'attore giuseppe qui abbiamo una cosa fatta apposta per noi sussurri nel bosco sussurri nel bosco abiti impalpabili arricchiti da russi e balze che creano un'armonia ideale con la natura questo non mi piace però questo è un po' di più abito in giorsetta di seta con volante allo scollo cintura luce studio calze monogram dei covi mocassini zippi tutto luisuiton ecco quindi abbiamo già capito che quella è natura qui abbiamo abito in ducchezza tecnocone scollo a cuore sottolineato da russi e pollermani calze calciadonia giacca ampia in organza t con m su top con scollo a cuore con decorazione architea non si vede molto però qui abbiamo una camicia in crepe de sheen con un chapeau e gonna a portafoglio con russi malibarmi pagina accanto mini abito balze molli bacche calze pompea e sante le mari valentino questo mi piace mi piace mi piace abito in crepe de sheen con spalle scoperte e arricciatura m marella pagina accanto troviamo un abito in crepe de sheen misto seta con più colori penne blanc santa di prima donna qui troviamo uno spolverino in raso di viscusa con piume twin set milano pagina accanto abito in tessuto tecnico e georgette di nascimento la forza del temi sono delle borse di Louis Vuitton in jeans mi piace un po' questa tipo pauleto così mi piace qui abbiamo una borsa in denim con catena in metallo chanel qui lo stesso che sguarda tu mi piace bella lo stesso qui abbiamo Michael Gors qui abbiamo nel labirinto della bellezza troviamo questo bracciale molto bello e gli orecchini che non mi piace la collana si bella il boteca verde innovazione solari con aloe e acido ianulonico qui siamo in una spiaggia total look e abbiamo sabbia terra occa sono il suo motore ideale per dare la luce qui abbiamo una chemisier qui abbiamo dei sandali infraditto camicia in nylon con pantaloni ampi raso di cotone la borsa in palli e bambù occhiali ovali in accettato cappello crocet ce l'è corto con ganci e questo è tutto il look qui abbiamo la fantasia e troviamo una borsa in raffia e pelle una tuta un bustiere in cotone sandali in raffia pantaloni in georgette e caftano in calza di lino è bella questa viaggio in giappone è bellissima questa pochetta richiamo delle albi bella anche questa bella anche questa bella bella qui abbiamo voglia d'estate marina rinaldi 150 euro fashion new questo è un abito da cerimonia insomma street style non mi piace niente quasi niente a parte questo e basta non temo le rughe ma le compatto la bellezza di essere me crema viso crema viso crema viso sorbetto crema viso sorbetto antirughe intensiva con bioretina sorbetto no sarà fresca forse vedo che è un po' gel gel a me piacciono le creme così in gel non amo le creme pesanti qui abbiamo fendi profumi mamma mia che belli potevano mettere un campioncino sapete che a volte mettono i pezzetti di profumo royal beauty un posto dei principi attivi mirati guru della modella capelli italiani del mondo Mirko Schiappa qui abbiamo Carolina Herrera qui abbiamo Dior qui abbiamo Lancome l'incanto della Ciglia riorientale a Palazzo Bovara qui abbiamo Love Neu Neurae Neurae non so come si dice cinque rinunciabile loro sguardo riposato troviamo Bioterma qui abbiamo Stille Prederton la serie vento targata Kiko ben colori sono i colori che uso spesso dolce capana light blue mi amo effetto brezza profumo qui abbiamo Monge per i nostri amici a quattro zampe le mie spose le mie spose fanno affari questo è un programma che stanno facendo adesso che è spose quattro spose all'asta non so prendono i vestiti all'asta mi piace come programma perché poi sono tutti programmi simili questo ottore Anthony Horkins 87 anni in una scena del film One Life io ho guardato il silenzio dall'inocenti molto bello da Cannibal Red Dragon questi qua mi piacciono Sofia la ginastica che ci farà sognare Sofia la ginastica che ci farà sognare il potere dell'acqua profumo di ciliegie io le ho prese solo una volta quest'anno perché hanno un prezzo esageratissimo a parte che non vengo matta per il ciliegie in generale ecco tipo tutti questi dolci che hanno dentro le ciliegie così a me non piacciono neanche lo strudel sembra molto buono però no infine troviamo il ritorno di Lady Gaga Angelina dei record Angelina Mango Nozze segrete qui abbiamo con Olora Ramazzotti Melissa Satta Fiammetta Cicogna Belen Rodriguez e Paolo Veronesi Ludovica Pizzaglia Emma Marrone l'olio c'è l'olio che ho trovato in omaggio l'olietto Poi c'è questi brillantinati, uno venduto ogni sette secondi, livello più splendore o gli secchi venutati, viso, corpo, capelli. Questo è un nuovo riflessio oro rosa. Ecco i gelini, abbiamo finito. Io vi saluto, spero di avervi rilassato. Mi raccomando mettete un pollice in su e commentate positivo. Vi mando un bacio grande grande. Ciao!